ciao a tutti e bentornati sul canale oggi consueto video con lo spacchettamento avon di campagna numero 18 e a farmi compagnia ed aiutante c'è marica ciao allora come sempre vi faccio vedere tutto ciò che hanno ordinato dei miei clienti e poi vi mostrerò tutto ciò che ho acquistato io parto subito nel farvi vedere il materiale cartaceo e vi mostro appunto l'anteprima del catalogo di campagna numero 2 che come riuscite a vedere come testimonial praticamente avremo melissa satta quindi sarà la testimonial avon per questo nuovo anno allora questo è appunto un catalogo di campagna dove ci sarà il lancio anche di una nuova linea make up e con tantissimi prodotti davvero interessanti allora poi mi sono arrivati sempre i soliti volantini quindi la bolla d'accompagnamento dei prodotti un volantino quello con degli degli sconti praticamente poi volantino quello in base all'attività per noi dimostratrici o un'offerta per noi per quanto riguarda la campagna numero uno o anzi le offerte sono due sia dalla davanti che qui dalla parte di dietro poi c'è la bon tutto per te con le offerte esclusive di campagna numero due e la bon tutto per te guida la campagna uno con i prodotti in anteprima per la campagna numero due e quindi questo è il materiale cartaceo che è arrivato allora velocissimamente vi mostro i prodotti che hanno ordinato le mie clienti e quindi andiamo partiamo allora in questa campagna numero 18 che si è conclusa e volato via il rossetto adesso lo recupera marica allora tantissimissimi prodotti di make up allora innanzitutto mi sono stati ordinati diversi mascara praticamente ve li mostro adesso perché erano in offerta soprattutto mascara quelli big darling quindi mascara volume big darling tutti nella tonalità black anzi alcuni black e alcuni blasted black quindi quelli con il nero intenso e questi mascara praticamente danno questo effetto volume perché hanno lo scovolino molto diciamo spesso che serve proprio per dare volume alle nostre ciglia costavano in offerta 4 euro e 95 quindi sinceramente il prezzo era veramente eccezionale marica adesso riporrà tutto nello scatolino e poi io andrò a smissare per le varie clienti allora altri prodotti che mi sono stati ordinati sono stati gli smalti anche questi in offerta se non ricordo male a tipo un euro e 95 allora cerco di recuperare qualche fogliettino per vedere sì gli smalti a un euro e 95 quindi le clienti hanno voluto appunto soffrire degli offerti per gli smalti e quindi diversi tipi di smalti della livia avontrù soprattutto nella tonalità lì coranz che adesso magari ve ne mostro uno per per farvi vedere qual è che questo nero appunto liquidizia che sta andando tantissimo il nero e come vedete io la mia ricostruzione che adesso deve essere di fatta perché se ne sono saltate diverse poi c'è il cherry jubilee che è questo qui che io utilizzo sempre anche per il mio lavoro un rosso molto intenso e poi c'è 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 vediamo se ce n'è un altro lo cherry lillac che è questo qui ed è un praticamente rosa lillaceo ecco così tutto perlato e sì molto bello effettivamente anche perché con la speranza che la primavera arrivi quindi sarà un colore che credo che in primavera verrà molto utilizzato poi una cliente mi ha ordinato però come campagna precedente il nail expert 5 in 1 quindi il trattamento quello rinforzante anti sfaldature fortificante diciamo che serve appunto per delle unghie abbastanza deboli allora poi mi sono stati ordinati delle matite occhi perché erano in offerta a 3 euro e 95 quindi le mie clienti hanno voluto suffruire di questi praticamente sconti e quindi hanno ordinato diverse matite inutile che ve le mosso perché la maggior parte sono tutte black poi altre clienti invece sempre lo stesso prezzo a 3 euro e 95 hanno acquistato le matite per le sopracciglie che io ragazze vi consiglio davvero tantissimo se avete una dimostratrice una presentatrice a portata di mano e siete delle patite per quanto riguarda le sopracciglia io vi consiglio appunto di utilizzare queste dell'amon perché sono veramente ottime poi 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 questa è sempre una matita occhi poi una cliente anzi forse due clienti perché una di un colore e l'altra me l'ha ordinato in un'altra tonalità mi hanno ordinato il pennarello labbra questo nella tonalità e zelnut quindi quello nel color marroncino quindi abbastanza neutro guardate il pennarello che appunto è una tinta labbra mentre l'altro vediamo se è questo si raspberry quindi comunque quello nella tonalità fucsia forse o rosso ecco si raspberry e in questo rosa e questo rosa qui appunto rosa fragola e questi sono i pennarelli che mi hanno ordinato poi altri ordini sono arrivati praticamente queste sono sempre matite per le sopracciglia poi c'erano anche in offerta le matite della color trend che sono matite ombretto quindi sono le i matitoni ombretto che sono questi qui in questo in questa tonalità questa è la tonalità acqua marine quindi in questo verde qui acqua marina che è praticamente metallizzato ed è un colore meraviglioso direi anche il verde sta andando tantissimo quest'anno il verde militare e poi c'è il silver che è questo che appunto è questo grigio argento quindi silver veramente molto molto validi questi diciamo questi ombretti in penna questi ombretti in penna sono veramente ottimi allora altro prodotto che altri prodotti che mi sono stati ordinati sono i rossetti una nella tonalità pink perfection della linea extra lasting però che ragazze mi dispiace ma non vi posso aprire perché sono sigillati e quindi è appunto un pink perfection è un più un pink fucsia e poi quest'altro invece della nuova linea sempre color trend quella dedicata al san valentino il pink passion quindi comunque si sono mantenuti forse questo qualcosa si riesce a vedere spero e quindi comunque ci manteniamo sempre sulle tonalità fucsia e rosate diciamo fragolate ecco diciamo se si può utilizzare un termine del genere fragolato poi un altro rossetto è il peony pop che è della ultra coral quello il blonde praticamente bold che è quello a lunga tenuta molto nutriente un rossetto veramente molto valido e questo posso farvelo vedere ed è in questo rosa qui praticamente io ecco rosa peonia sì diciamo che proprio tipo corallo ecco sì diciamo che è un rosa che rispecchia appunto il colore della peonia poi altro prodotto che mi hanno ordinato è questo correttore nella tonalità fire è quello con praticamente il pennellino tipo l'applicato di spugnetta tipo l'applicato di gloss però è appunto un correttore e poi come ultimi prodotti di make up allora abbiamo il fondotinta quello della linea extra lasting nella tonalità soft honey che è questo praticamente è questo qui e quindi questo assicura appunto una lunga tenuta al fondotinta perché è appunto extra lasting e se non ricordo male questo dura più di 8 ore quindi un fondotinta veramente molto valido da utilizzare sia in inverno ma soprattutto in estate per chi utilizza il fondotinta e poi mi sono state ordinate due cipria di quelle della linea color trend nella tonalità light allora poi come prodotti make up delle mie clienti sono terminati adesso vi mostro tutti gli altri allora una cliente ha ordinato diciamo il set di prodotti per quanto riguarda i capelli ha ordinato lo shampoo quello ai 10 benefici quindi uno shampoo nutriente proprio per i capelli danneggiati li rende splendenti morbidi davvero un ottimo shampoo poi ha ordinato la maschera quello a supreme oil quindi maschera con olio all'interno che adesso vi vado maschera trattante questo trattamento nutriente è un'interazione intensiva intensiva formulato con nutri 5 complex innovativa fusione di 5 lussuosi oli quindi con 5 oli appunto per nutrire i nostri capelli è un ottimo trattamento e devo dire che forse forse questo lo dovrò ordinare anch'io e poi c'è uno spray quello per quanto riguarda l'effetto liscio quindi anti crespo si dicevo bene è un effetto liscio per i capelli quindi rende i capelli i capelli abbastanza lisci fino a tre giorni e appunto evita anche questo effetto crespo poi per quanto riguarda sempre per i capelli come ultimo prodotto c'è lo spray quello sciogli nudi quindi è uno spray veramente ottimo da utilizzare sia per gli adulti ma anche per i bambini ha il profumo di albicocca e burro di karité e ha anche dei componenti della linea Avon Naturals questo l'abbiamo utilizzato diverse volte sia quello della versione dei bimbi che anche nella versione diciamo tra virgolette adulti ed è un prodotto veramente ottimo e poi di una fragranza veramente bellissima poi mi sono state ordinate delle creme mani che in questo periodo si sa benissimo che con il freddo che stiamo diciamo avendo le nostre mani ne risentono davvero tantissimo perché tra freddo caldo acqua calda acqua fredda quindi si screcolano facilmente e quindi la vendita delle creme è praticamente viene da sé giusto Marika non sa che dire comunque mi hanno ordinato due creme mani alla glicerina che io consiglio vivamente perché secondo me è un prodotto eccezionale e un'altra invece è quella con olio d'olivo che anche questo è una crema morbidente che va appunto a idratare e a dare nutrimento alle nostre mani screpolate poi per quanto riguarda il viso mi è stato ordinato un prodotto praticamente della Voncare che è il trattamento quello 3 in 1 è quello con struccante detergente e tonico è un prodotto fantastico che io vi ho mostrato anche nei prodotti miei finiti e quindi noi utilizziamo sempre perché con un unico prodotto magari anche se si va in modo veloce la mattina e si vuole così velocissimamente detergere e pulire la pelle si può utilizzare tranquillamente e poi altro prodotto sempre per il viso è la crema quella nutriente con pappa reale e appartiene alla linea Voncare quindi comunque ha un costo veramente contenuto però nello stesso tempo è una crema veramente valida perché contenendo pappa reale appunto rende la pelle più morbida, nutrita e sinceramente evita anche le screpolature e i rossori di questo periodo questo è ottimo anche per le ragazzine quelle da 11 anni, 12 anni che comunque vogliono anche loro mettere la crema sul viso è bene che lo facciano perché sono creme anti rughe quindi prevengono le rughe perché le rughe cominciano a insorgere anche tra virgolette in giovane età perché a volte possono essere rughe d'espressione quindi comunque sono prodotti che vanno a prevenire e poi in questo caso particolari appunto nutrienti, idratanti quindi male non fanno, fanno soltanto benissimo ultimi due prodotti ordinati da una cliente sono questi due deodoranti come campagna scorsa, come campagna precedente della On Duty 48 ore praticamente nella fragranza light bloom quindi quello un po' fiorito e siccome erano in offerta la ragazza ha voluto approfittarne anche in questa campagna e acquistarli allora per quanto riguarda i prodotti delle mie clienti diciamo che l'ordine termina qui adesso vi mostro tutto ciò che ho ordinato io sia di prodotti in anteprima che di prodotti da catalogo allora innanzitutto voglio mostrarvi questo bagnoschiuma che è Vanilla Orchid che era il bagnoschiuma che apparteneva al set della scorsa campagna vi ricordate che avevo preso un set di bagnoschiuma e ne mancava uno ecco quindi me l'hanno mandato in questa campagna e appunto faceva parte di quel set di bagnoschiuma poi come prodotti da catalogo che ho ordinato appunto per la famiglia ho ordinato questi tre deodoranti sempre roll on due nella fragranza maschile e uno nella fragranza femminile allora la fragranza femminile ho preso il soft mask che è quello diciamo è un classico di come fragranza dell'avone molto dolce appunto muschiata che a noi femminucce piace davvero tanto mentre per quanto riguarda i maschietti abbiamo ordinato perché me l'ha suggerito Mirko ha detto premio perché questo lo conosce il black suede come fragranza e poi c'è questa qui che è Avon Destination Wilderness che io sinceramente come fragranza non conosco e che adesso con voi aprirò e sentirò vediamo un attimino che cosa ah bellissimo è vero bella una bella fragranza fresca forse è anche il verde della confezione richiama appunto la freschezza muschiata no? bellissimo un deodorante fantastico di questo sicuramente anche il bagno doccia e anche il il profumo da uomo sicuramente è ottimo ottima scelta allora poi praticamente c'erano dei set riservati a noi presentatrici e quindi io ho dovuto necessariamente non potevo farmi a meno acquistarli allora c'è la possibilità di acquistare diversi set a diversi prezzi in questo momento non ricordo il prezzo di questo set credo costi intorno alle 2-3 euro però ragazze perdonatemi non ho adesso la bolla alle mani quindi non posso darvi la certezza e comunque ho appunto ho preso questo fondotinta calming effect quello diciamo illuminante nella tonalità warm beige quindi in questa tonalità un po' più scura rispetto a quella che utilizzo io però che sinceramente non è scurissima quindi miscelata potrebbe andare bene e poi comunque io la utilizzo per lavoro quindi tranquillamente e poi mi hanno mandato e ce n'era un altro di mascara però probabilmente non era più disponibile quindi mi hanno mandato questo che è il big darling uguale a quello che mi hanno ordinato le clienti non lo apro perché ne ho tanti già aperti quindi non vorrei farlo seccare inutilmente altro invece set che si diceveva non so se vi ricordate il volantino che vi ho mostrato nella scorsa campagna che acquistando un bagno schiuma si poteva poi avere un set di prodotti a 99 centesimi sono quelle offerte riservate a noi presentatrici vieni più qua allora praticamente il set è questo c'è il mascara big face lashes se il mascara ne abbiamo avrò una cinquantina di mascara quindi è questo qui il big face lashes il mascara sempre nella tonalità black poi in questo set era compreso anche il gel super shock quindi la matita in gel occhi black che è questa qui che vi mostro guardate questa che praticamente quando la mettete sugli occhi scorre come se fosse tipo ecco una crema praticamente come l'appoggiate scorre tranquillamente poi ha una lunghissima lunghissima tenuta molto molto valido e poi ultimo prodotto ma non per importanza anzi è il mega effect cream and shadow quindi quello waterproof che sarebbe un ombretto in crema a lunga tenuta e resistente all'acqua che vi mostro questa è nella tonalità rose gold che è questo rosa meraviglioso guardate che meraviglia che è bellissimo stupendo veramente bello questo colore mi sembra che non ce l'avevo quindi proprio azzeccatissimo poi ho ordinato da catalogo di campagna sempre questo rossetto nella tonalità reverse selling raspberry che spero che sia questo non vorrei che fosse il rossetto di qualche altra cliente scusate perché poi non vorrei sbagliarmi credo che no che sia proprio questo qui perdonatemi è un inconveniente così in diretta diciamo no è proprio questo sì ed è un rossetto che appartiene alla linea eccola qui no no l'ho ordinato io perché non me l'avevo ordinato nessuna cliente quindi è mio sicuro che appartiene alla nuova linea quella con i rossetti nutrienti che sono quelli che vi ricordate hanno appunto il balsamo nutriente all'interno come si può vedere appunto dalle sfumature come dice Marika ed è in questo marroncino rosato proprio perché appunto si chiama reverse selling raspberry quindi comunque ha una certa tonalità c'è una punta di rossastro però diciamo ecco come un terracotta vorrei no c'è questa punta di rossastro comunque anche il profumo è ottimo e quindi quello mi serviva acquistare un rossetto nella scorsa campagna per poi poter ordinare in questa un orologio a soli 99 centesimi quindi non potevo farmi scappare l'opportunità allora altro prodotto in anteprima che ho ordinato è questo mascara a saperlo non ricordavo di tutte queste offerte con i mascara comunque è un'anteprima è un mascara della color trend ed è un mascara appunto anche questo volume quindi mascara volumizzanti siamo bene per due anni mi sa vabbè vi faccio vedere la confezione qual è anche se la carta era bellissima fucsia comunque è bianco è fucsia anche questo qui bellissimo che dirvi proveremo poi non lo apro proprio per non farlo non aprirlo adesso per non farlo rovinare e poi in anteprima ho acquistato la crema piedi quella nella versione XXL quindi la versione grande è da 150 ml la crema per i talloni quindi a base di allora trattamento per talloni screpolati con vediamo se c'è con urea e AHA che sarebbero gli alfa idrossi acidi praticamente quindi comunque prodotti altamente nutrienti e infatti è una crema nutriente che va a nutrire il tallone quindi per togliere appunto la secchezza e l'ispessimento poi mi hanno mandato dei campioncini di profumo che non riesco a leggere ecco sì di fare way per l'acquisto appunto dei cataloghi e poi come pezzo forte che l'ho voluto lasciare così come prodotto finale come fine è questo bellissimo orologio che si potrà avere nella campagna numero 1 se non ricordo male quindi forse in questa e se non in questa nella 2 adesso non ricordo bene vediamo un attimino se c'è qualche specifica qui no non me lo dice comunque è l'anteprima che le clienti facendo un ordine possono acquistare questo fantastico meraviglioso orologio guardate che bello che è nella sua confezione nera con lo scatolino e questo orologio in metallo nero nero satinato neanche lucido con tutte le lancettine numeretti in questo oro rosato che dirvi ragazze quando io lo vedo e poi ha tutta la corona di strasse intorno è un orologio sia sportivo che elegante ma io come l'ho visto guardate me ne sono innamorata ho detto non posso non acquistarlo e se non vado errato le clienti per un acquisto di una determinata cifra potranno averlo forse a 11,50 euro e c'è anche nella versione maschile allora care ragazze che dirvi i prodotti ordinati sia delle clienti che quelli miei personali terminano qui ringrazio Marika anche se non ha proferito parola alla mia bambolina e vi ringrazio tutte per averci seguito vi aspetto al prossimo video sperando che questi video spacchettamento siano utili per i vostri acquisti noi vi rimandiamo un bacio e vi aspettiamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti